Allora anche questo è un casco molto particolare, un po' una chicca che ho usato a Laguna Seca nel 2005 perché nel 2005 siamo tornati a correre in America dopo tanti anni e anzi secondo me, se non mi sbaglio per me era la prima volta che correvo in America nel 2005 con la MotoGP nella mitica pista di Laguna Seca e avevamo la moto e la tuta che abbiamo visto prima con la grafica del cinquantenario della Yamaha e quindi questo era un sole luna un po' particolare con il sole un po' ruotato diciamo e la luna un po' più avanti e che però richiamava i colori della moto che era la famosa moto diciamo anni 70 della Yamaha con gli scacchettoni quella di Kenny Roberts e avevamo fatto anche il casco che era molto simile. Questa era bella, c'era tutto il muso nero e la fega. Grazie. 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 Grazie.